La castellanzese Concordia, diamo le formazioni delle squadre per il Concordia col numero 1 Repossi, 2 Fiameni, 3 Cattaneo, 17 Bignani, 18 Scazzosi. Provazione castellanzese con numero 1 Gallucci, 2 Ricci, 3 Vitt, 4 Petruzzi, 5 Pires, 6 Martinelli, 7 Semilia, 8 Nardone, 9 Guariso, 10 Possoni, 11 Izzo. A disposizione del mister Garzonio con il numero 12 Repossini, 13 Castellotti, 14 Benevento, 15 Giorgi, 16 Garganico, 17 Malatesta, 18 Macanti. Grazie Bravo, 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 bravo Vai, vai, vai Vai, 11 Rapporto, bravo, bravo Rapporto, bravo Rapporto, bravo, bravo Rapporto, bravo, bravo Rapporto, 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 bravo ... 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 grazie 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 bravo bravo oh bravo 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 oh che peccato Grazie a tutti 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 Grazie a tutti